Buongiorno a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo tante cose insieme perché diciamo che partiamo da un libro che si intitola I luoghi di Dante negli acquarelli di Massimo Tosi pubblicato da Federighi Editore quest'anno, sono 80 pagine per 16 euro e questo libro è dedicato al genio di Dante Alighieri nell'anno in cui si celebrano con manifestazioni nazionali e internazionali 700 anni della morte. Firenze, Ravenna e le città che le hanno ospitate celebrano con convegne mostre, mentre il volume è pensato per descrivere un aspetto importante della storiografia del poeta stesso. Massimo Tosi per lavoro e soprattutto per passione si dedica da anni a riprodurre con attenzione certosina antichi luoghi, edifici storici, musei ma anche monumenti ormai scomparsi, che riesce a far rinascere conchine e acquarelli, grazie anche a ricerche e studi delle mappe. Architetto, ma anche professore di storia dell'arte per 40 anni, questo artista dell'architettura è riuscito a unire in sé competenze tecniche, conoscenze storiche culturali e abilità artistiche. C'è da dire anche, prima di dare la parola al nostro ospite, che questo libro racchiude tutti gli acquarelli relative ai luoghi di Dante ed è anche contemporaneamente una mostra attualmente al castello di Potti. Io non perdo altro tempo in chiacchiere e darei subito la parola a Massimo, che avrà modo anche di farvi vedere i suoi lavori. Prego Massimo, a te. Buongiorno, ti ringrazio Maurizio per la bella presentazione, che non meritavo. Comunque noi ci conosciamo da tempo, abbiamo un interesse comune per i beni ambientali e per le tracce storiche che sono nel nostro territorio. Il volume che hai presentato è stato fatto proprio in occasione del settecentenario della morte del nostro più grande poeta e prende in esame tutte le località che sono state da lui percorse, abitate, insomma, dove ha soggiornato nella sua vita, una vita che ha avuto per la prima parte anche un certo successo dal punto di vista diplomatico e quindi vediamo Firenze e i luoghi delle sue ambasciate. Poi il libro enumera un po' tutte le località che sono state, che hanno ospitato, diciamo, nell'esilio il nostro poeta. Parto proprio nel far vedere il castello di Poppi, che è questo, non so se lo vedete, è il castello di Poppi. Ecco, questo è intanto vi enumero un po' il discorso di come è stato fatto questo disegno, un disegno con spaccato che permette di vedere all'interno del monumento stesso, è una vedusa, diciamo, dall'alto che ci dà l'idea complessiva della struttura del castello stesso e ci fa anche entrare dentro, dentro il castello di Poppi. c'è una famosa biblioteca, la biblioteca d'Irliana, e all'interno delle scuderie attualmente c'è appunto la mostra che di tutte le immagini sono presenti in questo libro, di cui questa è un esempio. ecco, dicevo che ha avuto nella prima parte della vita, nel 1300, Dante è andato a ambasciatore a San Gimignano, proprio per sostenere, diciamo, le alleanze politiche. E quindi qui ho messo, appunto, uno spaccato, un disegno al volo di uccello del centro storico di San Gimignano, con le tre piazze e con il famoso Palazzo Pubblico, e all'interno del Palazzo Pubblico, con lo spaccato, si riesce a far vedere la sala dove Dante parlò per Orola Hausa, appunto, Guelfa, e quindi è una tappa fondamentale nella vita di Dante. Ecco, accanto al Palazzo Pubblico abbiamo la collegiata di Santa Maria Assunta, e qui, vedete, anche Visi riesce a vedere la tecnica che io uso proprio per andare a far vedere tutti i particolari della struttura stessa. Ho staccato la facciata con l'affresco, non so se riuscite a vedere l'affresco di Penanzo Cozzoli, ribaltandolo. Sono sistemi che si usano nel disegno tecnico, ma che sono molto efficaci perché ci consentono di far vedere tutte le parti, compreso degli affreschi. Vedete, gli affreschi sono stati ribaltati e quindi abbiamo, se noi andiamo a guardare nel particolare, abbiamo proprio la collocazione esatta e la descrizione di come sono fatti. Questi tipi di rappresentazioni vengono utilizzate molto nei libri di testo, in riviste Bell'Italia, avete visto nelle pagine centrali, insomma, e utilizzano anche le sovrintendenze, i musei, quando c'è da illustrare appunto dei monumenti. Andando avanti, ecco, anche le ricostruzioni. Io faccio anche un certo tipo di disegno che non si sofferma sulla riproduzione dello stato attuale del monumento, ma fa vedere anche come ipoteticamente doveva essere un determinato monumento all'epoca, diciamo, di maggior successo. E qui abbiamo la Basilia di San Pietro. Naturalmente questo tipo di ricostruzione è aiutata dalle stampe, dagli affreschi che ancora ci fanno vedere in Vaticano la facciata. Cioè è chiaro che alla base di un retogenesis c'è sempre una documentazione che non è che me l'ho invento, ecco, c'è sempre una documentazione su piante, sezioni, su affreschi antichi, eccetera. E qui naturalmente perché c'è Roma, perché appunto anche Roma fu una delle sedi dell'ambasceria di Dante. E qui abbiamo anche, ecco, qui abbiamo dei semplici acquerelli che sono, dal punto di vista dell'esecuzione, sono molto più rapidi, immediati, insomma. È la componente, diciamo, più artistica del mio lavoro. E c'è il Ponte Sant'Angelo. Il Ponte Sant'Angelo c'è la famosa descrizione di Dante che dice che appunto i pellegrini passavano nel ponte nel testo appunto lo potete leggere. E naturalmente poi la fama di Dante ha, che cosa ha fatto? Ha creato tutta una serie di, anche di falsi, se vogliamo essere chiari. Questa è la di Dante a Roma, che non c'entra nulla, diciamo, con Dante. È una bellissima torre, la torre dell'Anguillaria, dell'Anguillaria, che risale appunto al periodo medievale e che è stata presa appunto da Sidney Sonnino nel 1913 e creata una casa di Dante. È un atteggiamento che era molto tipico nel momento storico del primo novecento. E quindi questo per dire che la fama di Dante, se addirittura si creano anche case di Dante dove non c'erano storicamente. Naturalmente tutte le tappe che Dante ha percorso, questo è un paesino della Toscana, nel Baldarno, San Godenzo, e qui ci fu appunto la riunione fra i fuoriusciti fiorentini e a cui si dice che partecipò anche Dante. Quindi non sempre, non tutte le notizie sono certe, naturalmente come questa per esempio, che è il castello di Gargonza, anche qui, è legata all'organizzazione dei fuoriusciti fiorentini. E qui il disegno parla chiaro, ci fa vedere questo castello di forma circolare, con la torre, con le varie porte. Insomma, i disegni danno anche l'idea di quello che era l'architettura medievale e quindi hanno un contenuto anche di tipo didattico, descrittivo, che si presta molto bene a essere introdotta nei libri di testo. E andando avanti, poi ci sono le varie tappe, San Mercuriale a Forlì, perché qui siamo già nell'esilio di Dante, Rocca San Casciano, anche questa, che sono località, diciamo, sull'Appennino e poi anche in Emilia Romagna, Faenza, Padova. Ecco, qui a Padova, la Cappella degli Scrovegni, anche qui c'è tutto un discorso sui contatti che pare che Dante avesse avuto con lo stesso Giotto, che, come sapete, è l'autore degli affreschi della Cappella degli Scrovegni, che si trovano all'interno di questa semplice Cappella, che però è importantissima dal punto di vista della storia dell'arte, perché c'è un ciclo di affreschi eccezionale, proprio dovuti a Giotto. E questo l'ho messa proprio per sottolineare questo possibile contatto fra i due fiorentini che erano nello stesso periodo a Padova e quindi mi sembrava quasi, insomma, impossibile che non si frequentassero o non... del resto Dante lo dice anche, no? Che Giotto teneva il... che era il più bravo, no? Che Cimabu era il più bravo, poi venne Giotto e lo superò. Quindi è chiaro che la personalità era molto conosciuta da Dante. E quindi, qui c'è un'immagine della Basilica di Sant'Antonio. E in questo disegno si può vedere proprio il mio tipico modo di rappresentazione a volo d'uccello, cioè con una semplice immagine, una veduta dall'alto, si riesce a far capire come è strutturata l'architettura. In questo caso è un'architettura complessa con tutta questa serie di cupole che, se si guarda una fotografia, non si riesce a vederla, a capirla come funziona, che è una croce greca allungata, no? Con i campanili che rimandano a certi influssi di tipo orientale. In questo modo, con questo disegno, si riesce a capire la validità e la complessità dell'architettura. E qui ancora siamo a Verona con il fonte Scaligero, anche questa è un'altra sede di Dante, dell'esilio di Dante, il ponte di Dante, anche qui naturalmente ogni località ha cercato di calcare il ricordo, le citazioni di Dante, nel testo le citazioni ce le abbiamo messe, in modo che c'è sempre un riferimento, il testo è breve e bilingue, e anche in inglese, per cui il libro si basa soprattutto sulle immagini, ecco, il testo sono i riferimenti. E il Castelnovo Magra, Sarzana, qui siamo in Lunigiana, in Lunigiana ci è stato molto un periodo abbastanza lungo, con il castello di Filvizzano, con l'Erici, con Forz di Novo, Forz di Novo è uno dei più bei castelli della Lunigiana, vale proprio la pena di andare a vederlo, collocato su queste propaggini dell'Appennino. E qui siamo a Poppi, Poppi è molto legato al Dante per due momenti, il momento, diciamo, della battaglia di Campaldino, dove lui, alla testa, diciamo, era un cavaliere importante e quindi partecipò alla battaglia direttamente che si svolse proprio nella pianura antistante il castello di Poppi. E qui vediamo rappresentato, qui è la città di Poppi, rappresentata in tutta la sua interezza, dal castello sulla destra alla badia sulla sinistra, i due centri di potere, con l'asse viario che lo percorre lungo tutta la collina e quindi si può vedere, si può apprezzare anche la struttura urbana di un centro medievale di notevole bellezza, che ancora è possibile apprezzare. E qui abbiamo, ecco, un altro aspetto che ho toccato con i miei disegni sono le ricostruzioni. Le ricostruzioni per cui il castello di Romena, legato anche a memorie dantesche, qui viene rappresentato nelle due fasi. Nella fase odierna, a destra, quello che c'è oggi, vedete che sono una serie di torrioni e mura, in gran parte di ruse, e nella parte di sinistra invece la ricostruzione delle due cerche murarie, con il castello, il pontelevatoio, con tutte le strutture, diciamo, difensive di cui era dotato. Quindi anche questi sono disegni che possono aiutare la comprensione anche didattica del mondo medievale, di come era costruito un castello, una valenza, appunto, anche così, se vogliamo, anche per libri di testo, per le scolaresche. E qui c'è un'altra serie di immagini che fanno vedere i posti che a lui ha frequentato, l'eremo di Camaldoli, il castello di Porciano, questo è un bellissimo castello, con una torre restaurata di recente, che è molto, molto grande, molto adibita a museo, che non so se ora sarà riaperta, ma qui anche queste sono località che veramente meritano di essere viste, compreso il santuario della Verna, legato appunto alla figura di Francesco, che qui vediamo nella rappresentazione a proprio uccello. E poi Luca, poi abbiamo Gradara, ecco, Gradara più che a Dante come biografia, è legato, come sapete tutti, a Francesca, Paolo e Francesca, che appunto in cui si consumò la tragedia. E anche questo è un bellissimo centro che viene rappresentato sempre a volo d'uccello. Ecco, anche questa è interessante, una ricostruzione a Pisa del palazzo dell'orologio e della torre della Muda. Ecco, in questo disegno, che è un disegno un po' strano, perché ci fa vedere la situazione attuale con le parti intonate, e vedete anche due torri, una torre un po' più massiccia a sinistra e una torre più snella a destra. Queste erano le due torri originarie della Muda, di questo palazzo, che si trova in Piazza dei Cavalieri, a Pisa, e che è la torre dove avvenne anche qui un tragico, il tragico fatto, del conto Golino. Il conto Golino fu chiuso nella torre stessa e lasciato appunto morire di fame insieme ai figli. E qui, nello spaccato, vedete che c'è appunto il conto Golino ormai frigo di forze e i cadaveri dei figli. E quindi c'è... Insomma, è un disegno che questo addirittura lo feci per la scuola normale di Fisa, perché attualmente c'è la biblioteca della scuola normale di Fisa, e un disegno che è stato pubblicato tantissime volte proprio per questa descrizione, ecco, accurata. Poi Venezia, a Venezia poi troviamo anche località tipo Torcello che ho anche... Torcello c'è una bellissima chiesa con affreschi e l'abbazia di Pomposa che è naturalmente un monumento romano di grandissimo rilievo che lui avrà certamente conosciuto e proprio si conclude un po' con Pomposa, scusate, Pomposa, e poi che è nella laguna, diciamo, nella zona della laguna Veneta con Ravenna che è l'ultima sede di Dante e qui per quanto riguarda Ravenna ho messo uno dei monumenti più importanti, il Battistero degli Ortodossi e appunto Pizzantino e la tomba di Dante che conclude un po' le immagini e la tomba che fu eretta in epoca insomma nell'Ottocento e c'è sempre ancora la risposta se è giusto che le spoglie di Dante rimangano a Ravenna oppure ritornino a Firenze, però noi sappiamo che Dante a Firenze non ci voleva ritornare e quindi secondo me ormai non non ha ragione di di essere spostato ma è una mia idea anche perché a Ravenna appunto insomma c'è tutto un culto c'è tutta una una serie di manifestazioni e per loro è estremamente importante non solo per Firenze queste sono le immagini del libro che fa parte di una collana una collana della Federica Editore che ha trattato nei volumi precedenti c'è stato anche un volume di due anni fa che ha in cui si è affrontato i luoghi di Leonardo tanto per essere diciamo in tema con anche con l'attualità con quello dell'anno scorso invece Toscana Medicea è quello più sfortunato perché è incappato proprio nel Covid nel periodo di chiusura e non si è potuto fare presentazioni insomma è un volume che tratta di tutte le ville Medicee che sono sparse in tutta la Toscana questo ora naturalmente si sta risvegliando un po' tutto il mondo culturale e abbiamo già delle prenotazioni e quindi spero che piaccia io come illustrazione Maurizio avrei finito è affascinante il tuo lavoro io provo un'invidia incredibile perché non riesco a disegnare neanche le casette dei bambini quindi mi chiedo ogni volta che vedo i tuoi lavori come diavolo fai e che pazienza devi avere per rendere in maniera così efficace così precisa i dettagli particolari è veramente incredibile ti ringrazio ti ringrazio e ti ringrazio anche per avermi ospitato nel nel tuo nella tua sede che io seguo insomma vedo molto attiva e molto presente per quanto riguarda il mondo appunto medievale e storico in generale quindi io saluto i tuoi diciamo i tuoi interlocutori o chi ti segue e la mostra attualmente è a Poppi naturalmente rivolgo un invito anche perché non c'è solamente la mostra mia ma è un posto bellissimo da vedere e vale la pena di fare una una girata si dice non in toscana sicuramente io invece ricordo il titolo del libro che è i luoghi di dante negli acquarelli di massimo tosi da pochissimo e sono tanta pagine per soli 16 euro quindi il mio consiglio è quello di correre ad acquistarlo perché merita e ringrazio tantissimo l'amico Massimo per aver accettato il nostro invito a presentarlo con noi fra l'altro facendocelo godere per quello che è il contenuto di queste 80 pagine preziosissime Massimo ti ringrazio tantissimo e spero di rivederti presto perché noi vediamo da tanti anni è davvero da San Galgano mi ricordo è stato una scelta a San Galgano ma ormai sono passati veramente tantissimi anni tantissimi anni dovremmo fare una rimpatriata magari visto che adesso sembra che ci si possa muovere un po' di più certo bisogna che si organizzi grazie ancora grazie Maurizio grazie grazie buona giornata e a presto a presto a presto a presto Grazie a tutti